Ok, oggi vediamo Excel. Parliamo dei filtri, dell'ordinamento, dell'uso delle formule e dei grafici. Quindi vedete, qui davanti abbiamo un riepilogo della popolazione sarda, divisa per le varie province, la città metropolitana di Cagliari, poi le province di Sassa, il Nuovo Ristano e il sud di Sardegna, con abitanti, la superficie e i comuni. Quindi partiamo dal calcolo del totale e della percentuale con le formule. Vedete, qui sotto è la riga dei totali. Se noi vogliamo calcolare il totale degli abitanti di tutta l'isola, possiamo usare una formula, cliccando FDX qui proprio prima della barra della formula. Quindi clicchiamo, vedete ci consiglia già Somma, e diamo un OK. Adesso, già selezionato dalla prima riga utile dei dati, quindi dopo quella di intestazione, dalla B2 fino alla B6, che è l'ultima prima della casella in cui siamo. Se volessimo modificarlo, cliccando su questa freccia, o nelle versioni precedenti di Excel c'è un altro simbolo, ma la posizione è sempre questa, io posso andare per rascinamento, cliccando sulla prima, fino a quella che voglio, a selezionare le celle, per poi ricliccare sulla freccia contraria. Adesso ho qui le celle selezionate. Gli do OK e mi ha calcolato in automatico la somma degli abitanti delle varie province. Adesso andiamo a vedere la percentuale. La percentuale, chiaramente, usiamo una formula dove andiamo a dividere gli abitanti della singola provincia per gli abitanti totali della Sardegna. Quindi quando mettiamo le formule iniziamo scrivendo uguale, dopodiché clicco sulla cella che voglio utilizzare, metto il diviso, appunto, e dividiamo per il totale, B7. Ok, quindi adesso vedete c'è un numero decimale. Come faccio a farlo diventare percentuale? Seleziono la colonna che deve essere percentuale e nel blocco numeri, qui nella scheda del menu Home, clicco su Stile percentuale ed ecco che viene trasformato in un valore percentuale, appunto il 26% della popolazione della Sardegna sta nella città metropolitana di Cagliari, che conta soltanto 17 comuni. Quindi, seleziono l'ascella, vedete l'angolino in basso a destra è un quadrato un po' più grosso e quando ci porto il mouse il più da bianco diventa nero e più fine. Clicco e trascino. Adesso qui mi dà errore. Perché mi dà errore? Qui dovrebbe aggiornare la formule automatico, infatti se vado a vedere nella casella B2 c'ho uguale B2 fratto B7. In quella successiva B3 fratto B8. Il problema è che B8 è vuoto, doveva rimanere B7. Quindi vado a correggere. Adesso le seleziono tutte e due e trascino. Non cambia niente perché semplicemente quando io vado a spostare, Excel va a spostare la selezione insieme a entrambe le caselle. Quindi correggendo qui sempre B7 io ottengo tutte le percentuali giuste. Se poi qui, trascinando, vado a mettere invece le somme delle varie appunto caselle, ecco che otterrò la somma qui, 1, quindi il 100%, mettiamo come percentuale. Qui la superficie dell'isola, che è di 24.099 km2, con 377 comuni. Purtroppo un bug di Excel ci ha causato un piccolo problema, ma riprendiamo da dove avevamo rimasti. Dobbiamo fare un piccolo cambiamento, perché quando noi andiamo a spostare qui la posizione, l'ordinamento, perde il riferimento del valore del totale, oltre che spostare anche il totale, cosa che non dovrebbe fare. Pertanto, visto che sta creando questo errore, adesso andiamo ad annullare, trasciniamo in altre colonne questa riga qui, la spostiamo qui, e nella formula, invece di mettere il riferimento alla cella che viene perso, come abbiamo visto, lo rifacciamo, ci mette proprio che perde il riferimento, ecco, vedete l'errore, lo tiene solo questa perché è rimasta nella stessa posizione. Cosa facciamo? Invece di mettere la cella, visto che sta creando dei problemi, mettiamo il valore assoluto, quindi lo copiamo 1.598.225 abitanti. Quindi trasciniamo la formula, vediamo, adesso anche per trascinamento così è andata liscia, perfetta, e quindi possiamo fare i nostri ordinamenti senza preoccuparci più di questo problema qui. Quindi adesso vedete, è ordinato per superficie, la provincia con più superficie è quella di Sassari, che è anche quella con più abitanti, ma non quella con più comuni. Se andiamo a vedere quella con più comuni, risulta la provincia del sud di Sardegna, oppure possiamo mettere anche semplicemente un ordine alfabetico. Passiamo ora ai nostri grafici. Quindi per fare i grafici, selezioniamo le caselle che vogliamo rappresentare graficamente. Ad esempio, prendiamo appunto province abitanti, con le province e gli abitanti che noi vogliamo visualizzare. Quindi abbiamo dei valori assoluti, quindi eviteremo magari un grafico a torta in questo caso. I grafici li troviamo alla sezione Inserisci del menu, e vedete il blocco grafici con i vari tipi di grafico. Selezioniamo un istogramma, particolarmente adatto per una rappresentazione di valori assoluti come questa. Quindi ci clicchiamo e ci dà le varie opzioni di stile, 2D, 3D, orizzontale, verticale. Mettiamo questa. Quindi vediamo appunto l'elenco delle province con i loro abitanti. Quindi, adesso inseriremo un secondo grafico. Un grafico a torta. Un grafico a torta è molto adatto per rappresentare le percentuali. Quindi prenderemo di nuovo i valori delle province insieme a quelli delle percentuali. Per fare la selezione saltando una colonna, come ho fatto io, selezionate prima per trascinamento le celle che vogliamo nella prima colonna. Dopodiché, tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera, selezioniamo le altre celle. Ora io ho le province e le percentuali. Quindi, sempre dalla scheda Inserisci, nei grafici vado ad inserire un grafico a torte. Vedete, questo grafico messo in 3D così è ingannevole. Sembrerebbe che la provincia di Caglia sia quella con la percentuale maggiore mentre vediamo dei dati che non lo è. Ma questo è solo un effetto della visualizzazione in 3D. Se andiamo a vedere gli stili che ci propone nel grafico, possiamo ad esempio mettere uno stile dove sono in evidenza i valori. ed ecco che così non è più ingannevole come prima perché vedo proprio che il 30% appartiene a Sassa e il 26% a Cagliari e il 21% al sud di Sardegna 3D a Nure e 10D a Oristano. Quindi il grafico è molto chiaro. Grazie.